Musica Gentili telespettatrici e telespettatori di Telebelluno, ben ritrovati a questo secondo numero di Dolomiti Turismo, questa rubrica che ci porta alla conoscenza del settore turistico non solo nella nostra provincia ma nell'intero arco dolomitico. La prima puntata abbiamo ospitato Lisa Calcamugi, responsabile marketing della DMO e quest'oggi andiamo fino in Alta Badia e saluto e ringrazio Roberto Uber, direttore di Alta Badia Brand, grazie per essere intervenuto in questo salotto. Buongiorno Uber. Buongiorno Claudio, buongiorno a te. Allora, iniziamo con la scorsa settimana, appunto abbiamo avuto la Calcamugi per la DMO che ci ha spiegato il modello turistico qui in provincia di Belluno. In Alta Badia, voi Alta Badia Brand è l'omologo della DMO bellunese oppure no? Cosa fa Alta Badia Brand? Ma credo che in qualcosa siamo simili, in qualcosa siamo diversi, sicuramente noi parliamo di un solo territorio, quindi Alta Badia sono sei paesi, tre comuni, più o meno 18 mila posti letto, quindi chiaramente a differenza di un ente che copre più comprensori è un altro tipo di realtà. Noi in Alta Badia cinque anni fa abbiamo preso una scelta molto molto definita, abbiamo diviso quello che è il marketing interno, quindi vuol dire far sì che l'ospite stia bene quando è in Alta Badia dal marketing esterno, che vuol dire andare a parlare quando è a casa sua. Abbiamo creato due organizzazioni che si occupano ciascuna di queste attività. Noi come Alta Badia Brand facciamo marketing esterno, quindi tramite tutti i canali di comunicazione, tramite la creazione del prodotto, tramite lo sviluppo del brand andiamo a parlare all'ospite quando è a casa sua proponendogli di venire in Alta Badia. La cooperativa turistica, che è la più grande dell'Alto Adige, possiamo dire la proloco sviluppata, che copre i sei paesi dell'Alta Badia, ha il compito di far sì che l'ospite stia bene quando è in Alta Badia e dà supporto a tutti gli associati, che sono più o meno 800 del nostro territorio. Quindi Alta Badia Brand cos'è Uber? È una fondazione, è un'associazione e da chi è composta? Il brand è una società consortile, come detto, nata nel 2018, di cui fanno parte tutti quegli stakeholder, quei partner che sono interessati al marketing dell'Alta Badia. Quindi abbiamo il partner principale, la proloco, la cooperativa turistica, poi abbiamo la società impianti a fune, che è chiaramente un'entità molto importante per noi, quindi tutti gli impianti sia estivi che invernali e due grandi eventi internazionali del territorio. Quindi l'estate del Marathon Andes Dolomitas, che è stato più o meno un mese fa, evento ormai internazionale con 8.000 partecipanti, 30.000 richieste, 85-86 nazioni all'anno, e la Coppa del Mondo di Sci, che è il nostro evento principale dell'inverno. Quindi tutti i partner, tutti gli stakeholder che sono interessati a promuovere il marchio Alta Badia si sono messi insieme, hanno creato questo ente che gestisce e tutela il marchio Alta Badia a livello mondiale. Siete soddisfatti Uber di come sono i risultati del marketing con riferimento alla stagione turistica estiva, visto che siamo proprio nel clou nel mese di agosto. I risultati, ci ha parlato il gran successo della Marathon Andes Dolomitas, ma a oggi sono soddisfacenti per voi per quanto riguarda il marketing che gestite? Siamo sicuramente, questa è un'estate un po' particolare, un'estate dopo il periodo Covid si torna un pochettino più verso l'umanità, chiaramente i mercati si sono aperti, la gente va all'estero, va al mare, va nelle città d'arte, le crociere sono sicuramente un target molto importante, la situazione internazionale non aiuta, quindi chiaramente è aumento dei tasi di interesse, è aumento dei costi, quindi sicuramente questa è un'estate che non raggiungerà i risultati eclatanti dell'estate scorsa, in cui forse tutto convogliava più verso la montagna, parlando anche con colleghi di valli vicine, ma anche di realtà diverse, quindi anche il mare, le città, sicuramente quest'anno sarà un anno un pochettino più difficile rispetto agli anni passati. Io credo che i paragoni bisogna farli però chiaramente considerando un lungo periodo, andando a fare un paragone rispetto all'anno scorso si fa un errore, quindi calcolando gli anni passati siamo più o meno in linea col periodo pre-Covid, quindi i dati che abbiamo fino adesso sono giugno, giugno è un periodo meno male in linea con l'anno scorso, c'è molto estero, quindi chiaramente ci aiuta a supportare la stagione estiva, luglio non ho ancora i definitivi, ma forse avremo un po' di meno e agosto soffre un po', sicuramente è un periodo in cui l'italiano va in vacanza, l'italiano è un po' in difficoltà e sicuramente dobbiamo capire come si assisterà il mercato dopo questo gran shock che è stato il Covid. Ecco, le difficoltà del turismo italiano, complici anche tutta quella serie di congiunture che lei ci ha elencato, hanno portato quindi ad un aumento del turismo straniero. In percentuali si può quantificare qual è stata finora la percentuale di turista straniero rispetto a quello italiano? Siamo, è difficile dirlo perché chiaramente l'estate è in corsa, vedendo il mese di giugno sicuramente l'estero supera abbondantemente la metà, supera abbondantemente il 50%, 60% dell'ospite totale, luglio credo che siamo in linea, normalmente agosto era un po' il mese dell'italiano, quindi un 80-90% veniva dall'Italia, quindi forse soffrerà un po' di più, noi negli anni passati bene o male in estate si parla di un 60% Italia e 40% estero, che credo nei prossimi anni si assesserà in maniera diversa, perché forse l'estero, o speriamo l'estero diventi sempre più importante. Ecco, i grandi eventi per l'inizio della stagione, in special modo il turismo della bicicletta, danno i loro frutti, sappiamo che voi avete investito da tanti anni sulla rete di piste ciclabili, piuttosto che con lo sviluppo anche che poi è seguito della e-bike, hanno dato i loro frutti, stanno dando i loro frutti e continuerete anche nell'investimento e nel marketing in questa direzione? Assolutamente sì, sicuramente il mercato della bicicletta è un mercato trasversale, internazionale, anche trasversale a livello di prezzi, quindi è comunque un ospite molto molto facoltoso, un ospite che viene normalmente dall'estero, che ha biciclette molto care, quindi un ospite che si gode la vacanza anche in maniera approfondita, quindi sicuramente un target interessante, soprattutto ci ha permesso di sviluppare i periodi dell'anno che prima non c'erano, soprattutto come dicevi giustamente giugno, giugno se parliamo, pensiamo solamente una decina d'anni fa, era un mese che non c'era, un mese che cominciava verso la fine 20-25 di giugno, con la maratona, con i primi bike day, dopo dieci anni abbiamo un mese di giugno che ormai è florido e ci permette di aprire prima e avere ospiti internazionali, facoltosi come detto e grazie agli eventi abbiamo creato degli appuntamenti veramente mediaticamente, turisticamente molto molto importanti. Ecco, un altro aspetto, la sostenibilità, sempre più importante, consumare meno, quindi togliere il più possibile il traffico dalle strade, voi con questa rete di piste ciclabili avete felicemente sperimentato già dagli scorsi anni, la sostenibilità in direzione futuro Uber come sarà in Altabadia? Sarà sempre di più una tematica trasversale tutto l'anno, quindi adesso il passaggio che è stato fatto negli ultimi anni è rendere gli eventi e le attività sostenibili, perché non lo erano prima, adesso in futuro la sostenibilità sarà il principio di base che farà partire tutto, quindi un evento partirà pensando alla sostenibilità e verrà creato in questa maniera. Noi come Altabadia ci siamo certificati l'anno scorso con lo standard GSTC, che è l'unico standard mondiale di turismo sostenibile, uno standard che viene dall'ONU, quindi serio, che ci permette attraverso 40 criteri di strutturare la nostra offerta turistica in maniera sostenibile, la sostenibilità per noi non è solamente ecosostenibilità, quindi energia, acqua, rifiuti, ma è sostenibilità a 360 gradi, quindi anche culturale, di identità, quindi il fatto di preservare la nostra dignità, la nostra cultura, il nostro territorio, aiutare le persone del posto a viverla in maniera giusta, quindi non solo l'ospite, è sostenibilità, quindi la sostenibilità per noi sarà sempre un elemento base di quello che faremo. Sostenibilità è un elemento base per l'immediato futuro o proiettato nel lungo termine? L'immediato futuro, perché come detto la certificazione l'abbiamo fatta l'anno scorso, ma ogni anno deve essere confermata, riconfermata, sì, quindi assolutamente, sì, assolutamente, noi nel mese di luglio, all'inizio di luglio l'abbiamo riconfermata, quindi ogni anno vengono gli ispettori e verifichero che ci sia, sono 40 criteri che sono divisi in quattro parti, quindi si va dal management all'ecosostenibilità, quindi vuol dire supporto della località, alla cultura, all'ecosostenibilità, quindi ogni cosa che ne facciamo, ogni prodotto, ogni campagna di comunicazione ha come pensiero sottostante la sostenibilità. Senta, ci ha parlato nel mese di agosto, volgendo lo sguardo verso settembre, ecco gli impianti di risalita, i parchi movement saranno aperti anche a settembre, andrete verso l'allungamento della stagione anche verso l'autunno oppure è di difficile attuazione? Come dicevo prima, grazie a questo sviluppo turistico dell'ultimo periodo abbiamo creato due nuove stagioni, giugno e settembre, settembre è un altro mese che ha un potenziale enorme, soprattutto verso l'estero, quindi ci permette di raggiungere anche mercati più lontani, pochi anni fa il settembre era l'ultimo periodo di stagione, verso il 5 o 6 già gli impianti chiudevano, siamo arrivati al 30 di settembre adesso, in cui l'altra vedia è completamente operativa, credo che andare oltre sarà un po' difficile perché siamo anche abbastanza alti, le temperature cominciano a diventare più fredde, però credo che far sì che il mese di settembre diventa uno dei mesi principali con un'occupazione importante sia l'obiettivo dei prossimi anni. Prima ho parlato di ladinità, aggiungo il turismo enogastronomico, voi notoriamente al di là delle manifestazioni sportive, mi sembra che promuoviate degli eventi di nicchia, diciamo così, mirati appunto per la conoscenza di questi aspetti caratteristici dell'Alta Badia, anche in quest'estate è stato e sarà così? Assolutamente sì, l'Alta Badia si è profilata negli anni come meta gastronomica di un certo livello, questo con una base di cucina ladina, che è la cucina classica, di cui l'ospite viene forse a conoscenza quando arriva in Alta Badia e grazie a chef internazionali che ci permettono di avere visibilità a livello mondiale. Quindi l'ospite viene da noi a un concetto di turismo a 360 gradi, quindi natura, attimi di piacere, che sono collegati alla cultura, alla gastronomia, ai panorami, allo stare insieme, quindi sicuramente è un concetto che è molto in evoluzione, forse il concetto delle stelle, il concetto dei riconoscimenti sta forse un po' perdendo valore, però la tradizionalità, l'identità, quindi andare a conoscere un territorio e i suoi piatti, di cui l'aladino, comunque l'aladinità è molto molto forte in questo ambito, è uno strumento turistico che ha sempre più valore. Senta, per l'aladinità un concetto collegato forse in parte alla ricerca di personale, nel senso che il personale della valle negli alberghi probabilmente riesce a trasmettere all'ospite anche dei concetti più efficacemente della l'aladinità, essendovi magari di famiglia o comunque a conoscenza. Con la ricerca, con l'occupazione alberghiera e nella ristorazione, nel settore turismo, in quest'estate si lamentano le difficoltà delle scorse stagioni oppure le cose stanno andando meglio Uber? Il problema c'è, assolutamente, forse meno forte rispetto all'inverno, dove all'inverno non abbiamo la concorrenza di altre destinazioni, quindi tutti i collaboratori hanno bene o male la possibilità di andare in montagna e basta. Chiaramente d'estate c'è la concorrenza del mare, dei laghi, di città, quindi sicuramente si sente questo problema. Io sono uno ottimista, quindi cerco di pensare che si vada in miglioramento, parlando con alcuni ospiti, con alcuni albergatori, mi dicevano che va un pochettino meglio rispetto alle passate stagioni, ma a lungi deve essere passato, quindi sicuramente c'è sempre meno persone disposte a volare in questo ambito, e soprattutto sempre meno persone del posto. E questo, come dicevi giustamente te, ci permette meno di comunicare i nostri valori, il nostro marchio. I collaboratori da fuori vanno benissimo, sono molto bravi, però chiaramente arrivano nel territorio pochi giorni prima di iniziare a avere il contatto con l'ospite, quindi può capitare che non conoscono il territorio, non conoscono gli eventi, non conoscono quello che siamo. Chiaramente da parte nostra avere almeno alcuni collaboratori del posto in ogni struttura ci permette di far sì che tutto il lavoro che facciamo dietro le quinte, marchio, altabadia, regole del marchio, valori del marchio, vengano comunicati e arrivino all'ospite. Se manca questo ponte, noi nei nostri uffici facciamo fatica ad arrivare, quindi è veramente un punto fondamentale per il futuro. Senta Ubre, una curiosità, ci parlava all'inizio di questa nostra chiacchierata, 18.000 posti letto in altabadia, sono sufficienti oppure ne servirebbero altri? Io sono sempre per l'ottica della qualità, quindi chiaramente più posti letto vuol dire più difficoltà a riempirli, vuol dire più concorrenza sui prezzi, vuol dire più difficoltà a gestire i flussi turistici, quindi a mio avviso il numero di posti letto che abbiamo adesso sono sufficienti e vanno bene, soprattutto in periodi anche magari un pochettino più complicati, in cui abbiamo il compito di riempire anche quei 18.000 posti letto che non sono sempre occupati, quindi anche il marketing che noi facciamo è molto orientato a periodi, per certi periodi, Natale, Ferragosto, non facciamo comunicazione, l'altabadia già di sua è piena, però ci sono altri periodi come l'inizio stagione, il settembre, il giugno, che sono periodi in cui questi 18.000 posti letti devono ancora essere riempiti, dobbiamo lavorare in modo da far sì che le persone che arrivino sfruttino quei periodi e vivano l'altabadia nella maniera giusta nel periodo in cui è ancora più vivibile di adesso. L'ultima domanda sulla stagione invernale, Ubre, avete già iniziato con il marketing in vista della stagione 23-24, Ski Workup, Altabadia, ma non solo. Quali sono le vostre linee guida per il marketing invernale? Il marketing invernale è più facile di quello estivo, tra virgolette, perché chi viene in Altabadia è il 95% scia, quindi è tutto connesso al mondo dello sci ed è un ospite che ama sciare senza neanche troppe attività che lo coinvolgano. Le dolomiti sono sufficienti, diciamo così. Da parte nostra andiamo avanti con la linea che abbiamo proposto ormai negli anni, quindi Coppa del Mondo è l'evento che dà via la stagione, ci permette di mostrare l'Altabadia nella sua veste migliore quando l'ospite è a casa e vuole venire, quindi fatta traino tutta la stagione. Poi abbiamo i nostri eventi chiave, il primo di tutto è Sciare con Gusto, che ormai ha più di 15 anni di storia, in cui abbigniamo i rifugi a ristoranti stellati a livello nazionale. Quest'anno di nuovo a livello, con uno scopo benefico anche, collaboriamo con l'associazione La Miglior Vita di Padova, con il dottor Stefano Bellon, che è una persona meravigliosa, parte dei soldi che siamo in grado di raccogliere tramite i piatti di Sciare con Gusto andranno per costruire l'ospedale pediatrico di Padova. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, abbiamo raccolto, se non ricordo male, sui 30 mila euro, quest'anno lo rifaremo lo stesso, quindi qualità, star bene, natura e far del bene. Questo è un po' quello che faremo quest'inverno. Uber, un'ultimissima domanda. Marketing esterno rivolto prevalentemente al turista italiano oppure estero? Cosa vi aspettate dalla stagione invernale prossima? Sicuramente il turista italiano è la nostra base, quindi sarebbe un errore, non potremmo permettere, non vogliamo neanche farlo, non andare a parlare al turista italiano. Speriamo che venga numeroso in Alta Badia. Chiaramente ci orientiamo anche all'estero, quindi soprattutto i mercati di prossimità, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Belgio. Il terzo mercato per noi è il Regno Unito, nonostante la Brexit viene comunque, e attraverso attività di sales, quindi con contatti con agenti, tour per retro andiamo anche più lontano. Quindi l'obiettivo è chiaramente provare a ridurre un po' la posa di mercato italiano, aumentare quella estera per non essere così dipendenti da un mercato unico. Uber, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, la ringraziamo infinitamente di essere intervenuto nel nostro salotto con vista sulla Piave. Auguriamo un buon lavoro a lei e a tutti gli amici di Alta Badia Brand. Grazie a Roberto Uber. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a tutti.